E' ripreso oggi a Torino il processo sullo scandalo che ha travolto il prestigioso premio Grinzane e Cavour, portandone sul banco degli imputati il patron Giuliano Soria. Presente in aula, l'uomo ha visto costituirsi parte civile anche l'intero comune di Grinzane, ben determinato a far pagare caro il proprio nome infangato da Soria e dal fratello Angelo, che solo in un secondo tempo è risultato coinvolto nella vicenda. Soria ha chiesto oggi il patteggiamento della pena a 3 anni e 11 mesi che gli è stata inflitta in prima istanza. Le accuse che gli vengono rivolte sono pesantissime, appropriazione in debita, malversazione, truffa e peculato, ma anche maltrattamenti e violenza sessuale. Per sapere se la sua richiesta verrà accolta dal pubblico ministero si dovrà attendere la prossima udienza fissata per il 15 novembre. La fretta di uscire in un modo o nell'altro dall'occhio del ciclone sembra aver colpito non solo Soria, ma anche altri sei imputati, seppure di secondo piano, intenzionati a seguirne le orme con una richiesta di patteggiamento. Fra loro spicca il nome proprio di Angelo Soria, fratello di Giuliano ed ex alto dirigente della regione. Fra le parti civili costituitesi in sede processuale ci sono, oltre al comune di Grinzane, anche la regione, il comune di Costigliole e il premio Grinzane, che chiedono un risarcimento a Soria e soci per un totale di 4 milioni di euro, la stessa cifra che sarembrarebbe essere letteralmente stata inghiottita dalla macchina organizzativa del Grinzane Cavour con Giuliano Soria a tenerne i comandi. Ad attendere giustizia ci sono infine tre persone fisiche, fra le quali Nitisce, il tuttofare di Soria, originario dell'isole Mauritius, che lo ha denunciato per molestie sessuali e maltrattamenti. I legali di quest'ultimo hanno proposto un risarcimento di 10.000 euro. Prendiamo questo come un acconto, ha dichiarato l'Avvocato Vitale, ma non è certo sufficiente.